Ah, curiosa di sapere qual è la prima cosa che ho mangiato appena uscita dall'isola? Una porchetta, un tera, pure il limone che c'aveva in bocca per sgrassare, perché non ce l'avete? Tanto come fai, fai, fai male. Donna con donna ci hanno sempre da ridire. Quando le amiche mie hanno saputo che avrei fatto l'isola, subito mi hanno detto ma ce vai così? Cioè tu c'hai coraggio di mettere il costume davanti a tutta Italia con ste chiappe, ma fa una dieta no? Ma aumenta sto metabolismo? Io una dieta l'ho fatta, quella più gettonata, la dieta dissociata, però l'ho fatta mia. L'altro non mangiavano, io me so dissociata. Poi mi è toccato mettere dentro l'alimentazione tutti quegli alimenti che aumentano il metabolismo. Non so se conoscete curcuma, zenzero, quinoa, gochi, miglio, e il metabolismo non si è mosso di pezza. Però in compenso, ogni volta che andavo al bagno facevo una pianta diversa dall'altra. E invece, ammirate, guardate qua, sono bastati tre mesi di isola, eh? Mancomo sono soddisfatte ste bagasce.